Allora, con Alessandro Barbera della Stampa, Stefano Feltri del Fatto Quotidiano e il professor Mario Monti che presentano al Festival del Giornalismo la lunga notte dell'euro, chi comanda davvero in Europa, Rizzoli. Allora, comincerei per rispetto dell'ospite con il presidente Monti, chi comanda davvero in Europa? I cittadini, molto più di quello che possa sembrare. I cittadini hanno nell'Unione Europea un grande difensore dei loro diritti, le piccole imprese hanno nell'Unione Europea, attraverso la politica della concorrenza, qualcuno che le protegge contro gli arbitri di monopolisti e oligopolisti. Persino i carcerati stiamo vedendo quando si trovano in condizioni indegne nelle carcere di un paese e possono avere una speranza perché l'Unione Europea interviene su quel paese. Ecco, questa è una risposta. Naturalmente se la domanda è quali paesi pesano di più in Europa, sappiamo benissimo che in questo momento, e un momento che potrebbe durare a lungo, è la Germania. Ma anche qui noi dobbiamo paragonare il peso della Germania dentro l'Unione Europea come è oggi e il peso che la Germania avrebbe in una Europa pre-Unione Europea, cioè in una collezione di stati che si trattano gli uni con gli altri con i tradizionali modi, dalla diplomazia alla guerra, con cui gli stati si parlano e si trattano. Io ho potuto testimoniare che con molto impegno, che non è sbattere i pugni, ma è sbattere e far pesare gli argomenti economici e politici che valgono più dei pugni che i nostri politici nei comizi in provincia dicono dovrebbero essere usati a Bruxelles e poi appena varcano la frontiera già l'hanno dimenticato, ma con la persuasione degli argomenti economici e politici abbiamo visto che l'Italia anche in un momento di grande difficoltà ha potuto, su certe cose, fare cambiare opinione alla Germania. Senta, le sembra che il governo attuale stia avvicinando bene il semestre europeo? Mi sembra di sì, con un dinamismo che non può che essere elogiato, con una chiarezza di idee nella mente del Presidente del Consiglio molto rilevante. Ci saranno dei test, un test molto importante è in questi giorni per quanto riguarda la riforma del mercato del lavoro, con, secondo me, la crucialissima importanza dell'inserire qualche elemento di flessibilità diciamo nei primi tre anni anche nei contratti a tempo indeterminato. Senta, un'ultima domanda, siamo al Festival del giornalismo, in alcuni panel si parla della mancanza di un grande media europeo, lei anche da commissario, ne ha sentito il bisogno, pensa che sia una cosa che potrebbe essere utile anche dal punto dell'informazione, avere una voce più europea? Sicuramente sì, questa è la manifestazione di due carenze, una come si è sempre detto non c'è il demos europeo e l'altra evidentemente da un punto di vista economico-finanziario, le imprese impegnate nell'attività editoriale non ritengono conveniente che questo ci sia e qui l'Europa tocca con mano anche una delle sue grandi differenze rispetto agli Stati Uniti, il pluralismo linguistico che d'altra parte è un inciampo dal punto di vista economico ma è una grande ricchezza dal punto di vista culturale. Allora ringraziamo il Presidente Monti, passiamo ai due autori, Alessandro Barbera della Stampa, perché il bisogno di questo libro? Perché c'era bisogno di ricostruire quello che è accaduto veramente fra 2011 e 2012 perché nessuno l'aveva ancora fatto, ne abbiamo tentato di fare in maniera il più possibile esaustiva perché quello che è successo dopo, quello che secondo noi è un eccesso di regole stringenti nei confronti degli Stati e la finora mancata risposta al problema delle banche che è il grande problema europeo nasce da quello che è successo fra 2011 e 2012, un periodo nel quale sostanzialmente l'Europa si è trovata di fronte ad una crisi quasi irreversibile, ci si è avvicinata per un millimetro nella quale l'Italia è stata il vero epicentro, anche se apparentemente era la Grecia, l'Italia era il paese più grande, il paese che se fosse entrato in crisi davvero pesante avrebbe sostanzialmente davvero minato la tenuta dell'euro e quindi una storia che abbiamo cercato di raccontare e per cercare di non rifare gli errori che si sono fatti. Come vi siete divisi il lavoro? Voi siete due emiliani almeno di origine, un bolognese e un modenese come vi siete divisi il lavoro? Lo chiedo magari a Stefano Fedri. Noi abbiamo lavorato in questi anni seguendo un po' la crisi più o meno sulle stesse cose però io mi appassiono di più all'aspetto della governance, quindi appunto chi comanda in Europa tra consiglio, commissione eccetera. Alessandro ha studiato più nel dettaglio la questione delle banche mentre sulla politica insomma ci siamo mossi in parallelo perché alla fine quello era il cuore del libro e su quello abbiamo lavorato insieme. Quindi lui è la lunga notte dell'euro e tu sei chi comanda davvero in Europa praticamente. Va bene, grazie ancora ad Alessandro Barbera della Stampa e a Stefano Fedri del Fatto e sentiremo il loro evento al Festival del giornalismo con Mario Monti.